Come risolvere così tutti i problemi su Call of Duty e Call of Duty Black Ops 6, ovviamente ho anche fatto alcune guide a riguardo sul crash e sul black screen, quindi in questo caso andremo così a realizzare una guida su tutti gli errori. Quindi iniziamo prima dal DirectX utilizzando così Nvidia App per scaricare i driver di Nvidia, quindi in questo caso su Nvidia App vai su Driver e qui su Drive Game Rated aggiorni e vedi se devi fare qualche aggiornamento. Ovviamente è molto importante scaricare gli aggiornamenti per aggiornare anche il DirectX, quindi in questo caso per Nvidia ti consiglio il programma Nvidia App, installi così i driver. Una volta fatto puoi anche usare GeForce Experience è come Nvidia App, solo che non è una versione beta, è proprio una versione completa del programma, poi c'è Driver GeForce che qua devi andare a inserire così la tua scheda grafica, quindi tipo di prodotto, metti il prodotto, metti la serie della tua scheda video, poi inserisci anche il sistema operativo, ti trova così, fa una ricerca della tua scheda video, quindi fa proprio una ricerca ben dettagliata, del driver che ti serve per la tua scheda video, avvi così la ricerca, questo è del Drive Game Rated e poi c'è il Drive Studio Rated sia per lavorare che per giocare, se usi il computer solo per giocare ti consiglio il Drive Game Rated per aggiornare così i driver della tua scheda video, avvi la ricerca, scarica e installa così il driver. Una volta fatto come puoi vedere questa è la pagina dove ti porta su tutti i link sia di Nvidia App, GeForce Experience e di GeForce per Drive Game Rated e Drive Game Studio ed eccolo qua il DirectX. Tutto proviene da questa pagina, quindi questo era il procedimento per scaricare e installare il DirectX, ora passiamo così alla parte del DirectX Web Installer and User Rantime, scarichi così il software, lo installi, ovviamente ti faccio vedere cosa devi fare, accetti così il contratto, togli così il Bing Toolbar che è solo un motore di ricerca, fai avanti, scarica e installa e installa il driver di DirectX. Una volta fatto tutto questo macello di scaricare e aggiornare tanti driver, ti consiglio di andare su Start, qua tasto destro su Start, vai su gestione dispositivi e poi aggiornare la tua scheda video anche qua sopra, aggiornare la tua scheda video anche qua sopra, aggiornare la tua scheda video, cerchi driver e ti questa qua, da un elenco, scegli così la tua scheda video e la installi. Una volta fatto tutto non ti resta che riavviare il computer e basta. Quindi se non dovesse bastare c'è pure il Windows Update, quindi verifica se devi fare qualche aggiornamento, scarica e installa così gli aggiornamenti, gli ultimi rilasciati. Come puoi vedere io ho scaricato gli ultimi aggiornamenti su Windows Update, io non ho mai problemi di driver sui giochi perché aggiorno sempre i driver della mia scheda video, tutto il sistema, del processore, di tutto. Questa qua invece è la seconda parte, ovviamente in descrizione ti ho lasciato degli script da aggiungere direttamente sul PowerShell, poi andremo a fare un ripristino direttamente sulla Xbox Game Pass per vedere se riusciamo a risolvere questo errore. Quindi in questo caso andiamo un attimo in descrizione, ti ho lasciato così questi script, ovviamente iniziamo dalla script 1, poi facciamo script 2 e poi copiamo questi altri comandi. Ora iniziamo con il primo script, facciamo copia, andiamo direttamente sul nostro PowerShell, Windows PowerShell, funziona solo su Windows PowerShell, esegui come amministratore. Facciamo CTRL V e facciamo invio. Farà così un ripristino sull'applicazione Xbox, una volta fatto il primo script andiamo a inserire il secondo. Otteniamo l'app dei servizi dell'Xbox, facciamo invio ed eccoli qua. Una volta eseguito se ti esce così questo comando rosso non devi fare altro che aspettare. Ok, una volta fatto puoi chiudere il PowerShell, ora ritorniamo di nuovo sul PowerShell, esegui come amministratore e facciamo sì. Una volta fatto passiamo al comando questo qua, getup xpackage microsoft game service, fai copia e lo inserisci qua e fai invio. Una volta fatto, iniziamo così ad aprire il Microsoft Store per ottenere il game service di Xbox. CTRL V e fai invio ed eccolo qua. Quindi apriamo il Microsoft Store, ci porterà direttamente sul servizio di gioco della Xbox, lo installi e lo ottieni. E basta, quindi fai ottieni e installa. Una volta installato puoi chiudere il servizio di gioco. Se non dovesse funzionare puoi direttamente andare su Xbox, quindi qua dice aggiornamento richiesto, quindi abbiamo fatto il modo di ottenere un aggiornamento, quindi facciamo aggiorna ora. Ed eccolo qua. Clicca qua sopra sul tuo nome, supporto, commento di ripristino, farà un ripristino, proprio un ripristino totale di tutti i servizi su Xbox, facendo anche un ripristino sul tuo Call of Duty. Se ti dice di fare il login, rifai il login e accedi così al tuo account. Se non dovesse funzionare, prova anche ad aggiornare i driver del tuo a scheda video. Puoi farlo attraverso gestione dispositivi oppure scaricando pannelli di controllo, per esempio quelli di Nvidia, Nvidia App o GeForce Experience. Schede video, aggiorna driver, circuit driver nel computer. Ci dà un elenco dei disponibili, clicca questo, la tua scheda video, fai avanti e installi. Se non dovesse andare puoi direttamente andare su Google Chrome e scrivere Nvidia App. Scarichi così la versione beta, la installi. Una volta fatto avvia così l'applicazione Nvidia. Preparazione e installazione in corso, sto facendo un nuovo aggiornamento. Poi direttamente su driver, vedi se devi fare qualche aggiornamento su driver studio oppure drive game rating. Se non dovesse bastare, vai direttamente su installazione applicazioni. scendi fino a giù, fino a trovare Xbox, opzioni avanzate. Prova così a interrompere il servizio. Lo puoi anche interrompere su gestione attività. Andando su dettagli, scendi fino a giù, fino a trovare il servizio di Xbox ed eccolo qua. Tasta sopra e fai termine attività. Lo interrompi e fai un ripristino. Quindi in questo caso se hai problemi con Call of Duty su Xbox, vai direttamente sui tre puntini su personalizza. Personalizza, quindi facciamo una personalizzazione del gioco. Quindi vai sopra. Una volta fatto, vai direttamente su file. E cerca un aggiornamento. Devi fare qualche aggiornamento, cercalo qua sopra. Se non dovesse andare, facciamo verifica e ripara. E facciamo direttamente, farà così una verifica su Call of Duty. Se non dovesse bastare, andiamo direttamente sulle applicazioni, sulle applicazioni installate sul nostro computer. Scendi fino a giù, fino a trovare così Call of Duty. Eccolo qua. Tre puntini. Su opzioni avanzate. E andremo così a fare un ripristino dell'applicazione. Cancellerà così i dati su Xbox, ma non è che cancellerà l'account. Solamente il login, poi devi rifare di nuovo l'accesso. Quindi inserisci le tue credenziali e puoi giocare a Call of Duty senza problemi. Quindi ripara e rimposta l'applicazione. Tutto qua. Se non dovesse bastare, puoi andare direttamente su Supporto. Quindi clicca sul tuo account in alto a sinistra e vai su Supporto. Clicca qua sopra sul Servizio Gaming. E schiaccia Start. Una volta fatto tutto il procedimento, è possibile andare direttamente sul Supporto della Xbox. Quindi in questo caso ti ho lasciato in descrizione così il link che ti porterà su questa pagina. Vai direttamente su Download qua sotto della versione. Scendi fino a giù, fino a trovare Download Gaming Service Reperture 4P. Un tool, quindi un servizio da usare sul nostro sistema per vedere se può aiutarci a risolvere il problema sull'Xbox. Quindi andiamo a scaricare così questo servizio. Installiamo il nostro servizio e facciamo sì. Una volta fatto non ti resta che aspettare. Aggiornamento di Xbox App, quindi l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Ora, una volta fatto, ripetere le azioni e verificare che funzioni ora. Il problema è stato risolto. Facciamo Y. Facciamo sì. Basta. Operazione completata correttamente. L'errore 0x0. Siamo invio per chiudere. E ora, non mi resta che avviare il gioco e vedere se si avvia. Ovviamente sta andando, il caricamento sta andando, quello iniziale. Ed eccolo qua. Si attiva anche il Ricocit. Ed ecco che carica. E si è avviato. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.